Ciao amici! Ciao amici! Siamo qui ad Olvia, al centro commerciale Cariura, per verificare e vedere questa bella grande manifestazione di Turing. Siamo qui con Monica. Monica, dimmi un po' cos'è questa grande manifestazione. Allora, io sono Monica, sono la rappresentante dell'associazione di Turing e di tutto appunto di organizzare il campionato audio di Turing. Oltre, grazie a Sardegna, che siamo ai Turing dopo i tanti anni, siamo di nuovo presenti ad Olvia. È una bellissima giornata, ci sono moltissime presenze. Nonostante venire qui ad Olvia sia comunque una grande spesa per i concorrenti, tra macchina, vendita e tutta vita, oggi hanno voluto farci questo regalo e essere presenti. Sì, buongiorno, oggi sono a lavoro e sono facendo un po' di un giorno in giro. E' un'altra parte, comunque, a guardare, a comprare, a comprare, a comprare, a comprare, a comprare, a comprare, a comprare. Grazie a tutti